Questa roba della musica indiana in realtà mi interessava molto e allora ho cominciato a ricordarmi di tutte le formule ritmiche, da accostare a una forma di canto occidentale nostra che avesse anche delle radici nell'opera. Abbiamo debuttato in Germania prima e poi l'abbiamo sempre più perfezionato fino a finalmente riuscire ad arrivare qua. A questi bambini arriva un desiderio di interagire che ormai nell'opera, nel pubblico in generale si è molto perso. La tematica ambientale era per me fondamentale, per l'inquinamento che noi abbiamo inserito soprattutto durante la scena delle scimmie. Il guru! Asherla! E' sempre pittoso! Poi ho utilizzato tutto sotto il profilo del ritmo, delle melodie, del colore, dell'atmosfera, di certe attribalità. Testi divertentissimi perché c'è il libretto che è molto divertente, tira fuori tutti gli aspetti più comici della situazione. Il risultato è questo, una specie di kaleidoscopio. Alla prossima Grazie.